Il ciclone Cleopatra che sta mettendo in ginocchio la Sardegna ha colpito anche il territorio salentino. A Gallipoli lo scenario che si presenta davanti agli occhi è apocalittico. Una tromba d'aria si è abbattuta intorno alle 12.15 sulla città bella distruggendo tutto ciò che trovava durante il suo passaggio. Ingenti danni su Corso Roma. Nell'istituto superiore Quinto Ennio la potenza del vento ha rotto numerosi vetri e sradicato gli infissi. La scuola è stata evacuata. Uno studente di 16 anni ed un 45enne hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del 118 in seguito a delle lievi abrasioni. Danni anche in piazza Carducci dove la forte tromba d'aria ha fatto cadere a terra le colonne della fontana e frantumato i vetri della scuola elementare. Numerosi gli alberi sradicati, la segnaletica stradale abbattuta, gli infissi di molte abitazioni di Velti, i calcinacci caduti per strada e sulle automobili e pali della luce di Velti. Numerosi chioschi, gazebo e le coperture esterne praticamente sradicate dalla furia del vento. Ingenti i danni registrati sul tratto del lungomare Marconi dove la furia del vento ha abbattuto il muretto che costeggia la stazione ferroviaria andata a sua volta completamente lagata a causa della violente e abbondante grandine. Il tratto di strada in questione è stato interdetto al traffico per consentire ai vigili del fuoco di liberare la carreggiata da conci di tuffo e alberi abbattuti. Gravi danni hanno subito anche gran parte dei natanti ormeggiati nelle varie darsene della città, gommoni capovolti, barche anche di grossa dimensione sbattute contro i fontili e spezzati gli alberi di diverse barche a vela. Si è temuto il peggio anche per un marinaio di una darsena di cui non si è avuta notizia per diversi minuti. L'uomo è stato poi rintracciato in ospedale in stato di forte shock. Si parla di danni per decine di milioni di euro a strutture pubbliche e private. Ringraziamo l'associazione Gira Sud Film per il contributo filmato. Ma la situazione si presenta identica praticamente in tutti i comuni del Salento. Attorno a mezzogiorno erano già caduti circa 60 mm di pioggia. Una quantità straordinaria che ha causato tanti disagi sulle strade. Sono dunque ore di intenso lavoro per i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Lecce e dei volontari della protezione civile. Innumerevoli le richieste di soccorso pervenute ai vigili del fuoco che stanno lavorando per liberare negozi e scantinati dall'acqua e verificare l'agibilità di numerosi edifici. Strade particolarmente allagate nel nord ovest del Salento, nella zona di Surbo, Veglie, Leverano, Novoli, Carmiano e Campi Salentina. In alcune strade si sono create voragini per il cedimento dell'asfalto. Allagamenti anche lungo le strade di Copertino. A Nardò, in via Roma, nei pressi del semaforo, è caduto un fulmine che ha abbattuto un albero. Sempre a Nardò, una tromba d'aria si è abbattuta su un albero secolare posizionato all'interno del seminario diocesano. A Lecce, intorno alle 11, si è allagato il sottopasso dell'Idria sulla strada che porta verso Monteroni. È intervenuta la polizia municipale che ha bloccato il sottopasso per garantire la sicurezza dei cittadini.